Lei si è in commissione bilancio, alcuni articoli di giornale sono abbastanza scettici sull'effettivo utilizzo del PNRR o meglio il rischio si dice che i fondi vengano drenati verso il centro nord, anche quelli destinati al mezzogiorno, è così? Attualmente dall'atto che ha il Senato non è proprio così, però nella nuova governance che viene individuata sicuramente viene tutto molto accentrato al Dipartimento della Coesione, che è un dipartimento politico per eccellenza sotto l'ufficio Palazzo Chigi e lì credo che ci sia veramente il rischio di premiare le regioni, loro dicono, più efficienti ma noi del Movimento 5 Stelle staremo molto attenti e vigileremo, i nostri emendamenti sono proprio in questa linea a cercare sì di accentrare laddove è meglio per accelerare la spesa ma senza distogliere le somme destinate al sud. Anche perché c'è una data, il 2026, entro quella data questi fondi dovranno essere utilizzati? E' veramente questo il vero problema e penso che ormai sia noto anche a tutti coloro che ci ascoltano perché su tutti i giornali è anche la decisione della Commissione di prendersi, la Commissione europea, di prendersi un altro messo in più per vagliare gli obiettivi che ancora l'Italia non ha raggiunto attualmente e quindi il rischio c'è di non riuscire a spendere tutte le somme del PNRR, il Ministro l'ha pure ammesso quindi non credo che si stia dicendo niente di nuovo. Il problema nel DL PNRR presentato, che stiamo vagliando in Commissione bilancio, è l'accentramento non solo del PNRR nella governance ma anche della politica di coesione che potrebbe veramente togliere dignità alla programmazione regionale unitaria. Per l'uomo di strada, semplifichiamo questo concetto, c'è il rischio di una partita di giro dal PNRR alla politica di coesione? Se sì, che significa? Significa che tutto ciò che non potrà essere finanziato o che non sarà completato entro il 2026 si possa spostare il progetto non completato sulla politica di coesione 21-27 che invece si chiuderà nel 2029, quindi lo Stato si prende più tempo. Ma questo è un po' cambiando le regole del gioco perché la politica di coesione è destinata all'80% al Sud non solo come risorse, cioè soldi, ma anche dando la possibilità alle regioni del Sud di prevedere quali interventi strategici ci siano importanti per il loro sviluppo. Se invece vengono utilizzati per i progetti che già sono nel PNRR, questo significa mortificare le scelte politiche che le regioni fanno per i propri territori. C'è un emendamento in particolare di cui lei prima mi accennava, insomma, che accende un rischio. Il rischio, per certi versi, potrebbe essere quello di uno scippo ulteriore alle aree fragili del territorio italiano. Sì, perché non si parla solo del fondo di sviluppo e coesione, ma addirittura dei fondi SIE, che lo so, è un termine un po' strano, che sono i fondi di sviluppo regionale e il fondo sociale europeo. Questi fondi SIE dovranno chiudersi obbligatoriamente nel 2023, perché la programmazione europea si chiude nel 2023. Spesso le regioni, per completare i loro programmi, prendono progetti da altri programmi nazionali e li rendicontano, diciamo, che li portano su questi fondi, il FESR e l'FSE. C'è un emendamento strano, che ancora non è stato ancora vagliato in Commissione, quindi attendiamo ulteriori sviluppi, che addirittura parlano che le somme che imputiamo in questi programmi, quindi stiamo parlando di fondi strutturali, non più solo di politica del FESR, vengono riportati in un fondo di rotazione di gestione governativa, per poi successivamente essere redistribuiti. È sempre una partita di giro un po' anomala, che senso ha toglierli e poi ridarli. E questo abbiamo gli occhi, infatti, molto puntati su questo emendamento.